Se vuoi un telefono da lavoro resistente che non pesi quanto un mattone e che costi poco beh questo Blade 10 Ultra D2G fa davvero il caso tuo Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di smartphone da lavoro questa volta lo faremo con dispositivo che quando l'ho preso in mano sono rimasto piacevolmente sorpreso per quanto fosse leggero e avesse un design molto originale con una back cover che a seconda di come si guarda passa dal nero a mostrare una trama molto carina secondo me è una scelta più che valida per chi vuole uno smartphone da lavoro che pesi solo 240 grammi che per la categoria sono davvero pochi ma prima di andare a vedere questo Blade 10 Ultra D2G solito momento supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità commentate per farmi sapere le vostre opinioni seguitemi su TikTok dove porto trucchi e consigli in meno di un minuto se avete bisogno poi di assistenza informatica gratuita o più semplicemente di un consiglio iscrivetemi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti i link li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio onorissimo canale Whatsapp dove seleziono un sacco di kink interessanti ma bando alle ciance andiamo a vedere più da vicino questo smartphone da lavoro nella confezione come potete vedere è davvero di dimensioni compatte visto che stiamo parlando di un ragged mi piace la scelta del nero e del verde abbiamo oltre ovviamente al nostro smartphone un alimentatore da rete da 10 watt che è il massimo che questo dispositivo riesce a sfruttare troviamo poi il cavo che da una parte è USB di tipo A dall'altra parte è USB di tipo C sinceramente questa plastica se la potevano anche risparmiare troviamo poi cosa molto importante le specifiche SAR che ci indicano le reali emissioni di radiazioni per quanto concerne il nostro smartphone troviamo poi un manuale d'uso davvero ridotto al minimo e c'è questo QR code che ci invita ad essere scansionato per avere maggiori informazioni qua ben fatto anche se si potrebbe togliere anche questo qui troviamo poi una pellicola aggiuntiva da installare in un secondo momento c'è anche il kit per l'installazione e per la mia gioia installato fin da subito un vetro temperato per quanto riguarda cari amici i valori SAR abbiamo 0.653 watt per kg per la testa e 1.589 watt per kg per quanto riguarda il corpo ricordiamoci che il limite è di 2.4 watt per kg per quanto riguarda invece le dimensioni abbiamo 80 per 182.7 per 11 mm un peso di 240 grammi il peso è ben bilanciato e in mano cari amici non si avverte proprio la questione del device è caratterizzata da un'intera scocca in gomma antiurto con rinforzi in finto alluminio nei lati studiata appositamente per assorbire urti e cadute ricordiamoci che questo smartphone ha la certificazione militare che garantisce la sopravvivenza è caduta da un metro e venti grazie anche al vetro che è un Corning Gorilla Glass di tipo 5 la finitura usata per la scocca per esteriore cari amici è molto bella e il touch and fill è davvero fantastico nella parte posteriore troviamo poi la scritta 2G e nella parte alta il semaforo con le tre fotocamere in realtà è una sola e troviamo poi il flash a led nella parte superiore purtroppo niente sensore di reddia che avrebbe fatto molto comodo ma troviamo per la mia gioia il led di notifica che è un qualcosa che apprezzo sempre in uno smartphone sul lato destro poi troviamo due tastini per il controllo del volume sono zigrinati e antiscivolo e il tasto power che va a integrare anche il sensore di impronte digitali che è abbastanza preciso e veloce come potete vedere cari amici anche voi stessi sul lato sinistro troviamo il carrellino per la sim non c'è niente per estrarlo ma come potete vedere è semplice appunto da togliere con una disposizione che non ho mai visto che permette di utilizzare sia due sim di tipo nano che una micro sd per l'espansione della memoria mi raccomando andate ad utilizzare memoria di alta qualità altrimenti il telefono impazzisce vi lascio delle possibili scelte sotto in descrizione più sotto troviamo poi sempre con questa zigrinatura antiscivolo un tasto personalizzabile che può essere utilizzato ad esempio con una pressione singola doppia o prolungata per eseguire delle operazioni tutto ovviamente estremamente personalizzabile da un menu che poi vedremo tra poco che purtroppo non è tradotto nella parte inferiore troviamo la porta di tipo C protetta per l'introduzione da liquidi supporto TG abbiamo poi il microfono e l'altoparlante per quanto riguarda il display il Blade 10 Ultra di 2G è un pannello da 6.56 pollici tipo IPS risoluzione HD+, 720x1612 pixel formato 29x269pp che ricopre l'84% il rapporto schermo-corpo quindi la cornice c'è ma non è nemmeno tanta cari amici anzi devo essere sincero la sensazione che trasmette è davvero gradevole il display è una luminosità tipica di 500 nit è un display economico ma devo essere sincero tutto sommato visto il costo i colori sono abbastanza fedeli anche se in esterno ovviamente si fa fatica sotto la luce diretta del sole anche perché la luminosità automatica è un po' troppo conservativa abbiamo il noccia-goccia che non mi fa impazzire al qui interno e con tutta la camera selfie che può essere utilizzata come potete vedere per lo sblocco tramite riconoscimento facciale 2D e il led di notifica che vi ho mostrato prima il suono è mono ed è insufficiente infatti il volume e la qualità non sono per niente appaganti per avere un audio più accurato vi lascio sotto in descrizione le cuffie un po' per tutte le tasche abbiamo poi la certificazione Google Wide Wine di livello 1 quindi per lo streaming in alta definizione Netflix o Prime Video nessun tipo di problema lato software cari amici il Blade 10 Ultra arriva con Android 14 praticamente stock con le patch di sicurezza di maggio ma al primo avvio mi è stato segnalato un aggiornamento firmware che ha portato le patch di sicurezza a luglio questa cosa sinceramente è un qualcosa di estremamente positivo e denota attenzione da parte di 2G in quanto mediamente questi cinesoni una volta rilasciati sul mercato lato software vengono lasciati un po' a loro stessi troviamo poi delle funzionalità carine come quella per andare a programmare il nostro tasto che però come potete vedere in questo modo non è per niente tradotto possiamo andare a impostare il singolo click il click doppio e la pressione lunga possiamo aprire sia delle shortcut che delle applicazioni altro aspetto che mi è piaciuto molto è la cassetta per gli attrezzi che ci permetterà di avere un sacco di funzionalità carine come ad esempio il compasso il goniometro o anche il misuratore di decibel utile nel momento in cui andiamo a lavorare altro aspetto positivo che non c'è nessuna app spazzatura installata il DLR è quello di Google e non permette la gestione delle chiamate se volete sapere come effettuare la gestione delle chiamate ad esempio con il vostro smartphone Samsung o Huawei o anche Redmi o Xiaomi vi lascio tutti quanti i link sotto in descrizione per il resto il processore è datato e anche se ha un ottimo quantitativo di RAM 8 GB fisici e si arriva fino a 20 con l'espansione virtuale gli impuntamenti lag sono un po' all'ordine del giorno non è uno smartphone fatto per stare tutto quanto il giorno sui soggiori ma questo mi sembra abbastanza superfluo da dire anche se a me è piaciuto quando riguarda la connettività abbiamo Wi-Fi 5 prodotti 5.0 GPS con GLONASS e supporto ai satelliti Galileo radio FM che ha bisogno degli auricolari per poter funzionare e qua sinceramente si poteva fare qualcosa in più comodo per i pagamenti il sensore NFC che può essere utilizzato anche con nuovissimi bigliettini da visita che ci permettono di trasferire tutti quanti i nostri contatti in pochissimi secondi tutti quanti i riferimenti li trovate sotto in descrizione per quanto riguarda la CPU è una Unisoc Tiger T606 processo produttivo a 12 nanometri clock massimo di 1.6 GHz a cui si associa una GPU Mali G57 ben 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2 veloci ma non velocissime anche se cari amici per la categoria sono più che ottime abbiamo circa 1050 MB in lettura e 880 MB in scrittura a livello di benchmark si ottiene un punteggio da smartphone economico infatti su AnTuTu versione 10 abbiamo 280.154 abbiamo poi sia la giottificazione militare che quella IP69K che lo rendono resistente a immersioni fino a 30 minuti ed è resistente anche alle alte pressioni lato autonomia per essere così leggera non troviamo una batteria enorme ma una più umana 5.150 mAh che visto anche il processore non energivo garantisce due giorni di autonomia purtroppo la ricarica è limitata solo 10 Watt un po' pochini e ricarica il nostro smartphone mediamente del 42-43% in un'ora per una ricarica completa saranno necessarie circa due ore e mezza lato fotocamere il Blade 10 Ultra ha due fotocamere una frontale un'altra posteriore questi due sensori ci sono solo per me di fattori estetici la camera principale è da 50 megapixel se in situazioni di luce ottimale si possono ottenere scatti accettabili di notte la modalità dedicata fa quello che può con evidenti limiti dettati anche dal processore datato la fotocamera frontale poi è da 8 megapixel solo sufficiente per la tipologia di prodotto il resto cari amici lo lascio giudicare a voi con gli scatti che vi ricordo non hanno nessun tipo di manipolazione o di lavoro in post-produzione ma sono come la fotocamera li ha scattati possibile poi registrare video in 1080p 30 fps stabilizzati per la fotocamera posteriore e di 720p 30 fps per quella anteriore stabilizzazione poi solo elettronica bene cari amici tiriamo un po' le somme questo smartphone non è per tutti ma è la tipologia che determina ciò ed è sicuramente una scelta valida se si vuole un telefono resistente senza avere in tasca un peso massimo il mio prezzo lo si trova su Aliexpress dove costa circa 160-170 euro e questa cifra dove essere sincero mi ha convinto se volete uno smartphone senza fronzoli da lavoro che può stare tranquillamente in tasca beh secondo me lo avete trovato su Amazon i prezzi sono più elevati trovate tutti quanti i link con i codici sconto sotto in descrizione ma tiriamo le somme con il solito momento conclusivo di cosa mi è piaciuto di cosa non mi ha fatto impazzire tra i pro prezzo design peso contenuto aggiornamenti rari sui cinesoni tra i contro software e alcuni menu non sono proprio tradotti assenza della ricarica wireless anche se c'è da dire che nemmeno su dispositivi più costosi l'ho mai trovata ricarica lenta avrei gradito qualcosa di più performante anche un 18 watt sarebbe stato sufficiente impuntamenti e lag più o meno frequenti beh cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità attivate la campanella per non perdervele iscrivetevi se volete vedere un prodotto in particolare qui sul canale un saluto dal masso di youtube e di tiktok ciao 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 ciao